Ma non superi la barriera facendogli arbitrare l'eccellenza e la serie B? E già un passo! No, no, devono arbitrare la serie A. E allora devono arbitrare la serie A, la serie B, la serie D, la serie B. E certo, e certo, e lì la discriminazione. Quello che non volete capire, perché adesso giocate su questa vicenda, non tutti quanti state giocando sulla vicenda che Messicchio ha detto questa cosa, fa il sessista, no, no, la donna, la donna va rispettata in toto, la federazione non la rispetta, perché non le fa... Sì, perché non si fida delle donne, la federazione, perché non le fa arbitrare le partite di serie A, non le fa arbitrare la Coppa dei Campioni e non le fa arbitrare Juventus-Fiorentina davanti a 40.000 persone, quale è la migliore occasione di non far arbitrare Juventus-Fiorentina ad una donna? Perché l'hanno discriminata anche nella partita più importante del calcio femminile? Perché la donna è stata discriminata anche lì? Parliamo anche dell'intervista, perché c'è la corrente del vicolo. Parliamo tantissimo, così almeno da lei, che dice noi non le discriminiamo le donne, ma oggi, ma tu vedi?